Giunta a destinazione dopo aver percorso 880 chilometri in 5 giorni, la carovana della settima edizione di Santiago in Rosa. La pedalata di solidarietà promossa da Cancro Primo Aiuto con l'obiettivo di finanziare le proprie iniziative a sostegno dei malati di cancro e delle loro famiglie, come l'acquisto di acceleratori lineari per la radioterapia in ospedale e il progetto Parrucche. I partecipanti, le coppie livignasche formate da Marilena Bormolini, Fabrizio Incondi, Lucia Galli, Giorgio Cusini, Sabrina Grossi, Maurilio Cusini, oltre all'alto livignasco Gianni Galli e al brianzolo Andrea Panzeri, coordinati dal team manager Omar Galli, dopo la tappa italiana da Villa Fontana di Capriano di Briosco all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, una volta trasferiti in Spagna, martedì scorso sono partiti da Irun per arrivare sabato a Santiago de Compostela, dove davanti alla cattedrale c'era ad aspettarli una cinquantina di sostenitori dell'associazione giunti dalla Brianza. Ancora una volta c'è stata grande partecipazione, commenta l'amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari, che guidava il gruppo. Questa testimonianza di unità e di gruppo dice ci spinge a continuare con sempre nuovi obiettivi.